Ciao a tutti Buonasera, siamo qui come Remax professionisti immobiliari Busto Assizio stiamo prendendo parte alla manifestazione, alla festa di Beata Giuliana i miei colleghi sono in giro, c'è chi sta facendo pubbliche relazioni alcuni altri ti occupano di gonfiare i palloncini per i bimbi Buonasera, siamo qui Buonasera 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 Oggi siamo stati qui con tutti i colleghi per divertirci insieme a voi Ciao